Che non serve a niente. Punto F attraverso Francesca R 7 gennaio 2023 a cura di VB domanda Voi avete detto che avreste avviato la voce diretta per sopperire alle mancanze linguistiche dello strumento. Michel, certo. Domanda, visto che queste mancanze per adesso non ci sono, è ancora utile la voce diretta? Michel, quando sarà il momento, ci sarà. Lo abbiamo detto. Domanda, perché, visto che non servirebbe più? Serve anche a voi. È una specie di dono, come se fosse un oggetto che vi viene apportato. È un dono, ma non è utile in sé. In effetti, sei già arrivato alla conclusione che non serve a niente.